Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, si è recato ieri mattina in visita alla comune di Agropoli, dove è stato accolto dal commissario prefettizio, il vice prefetto Silvana D'Agostino, in servizio presso la prefettura di Salerno e incaricata alla gestione dell'ente agropolese da aprile a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, disposto a seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri. Presenti i componenti dello staff, tra cui il segretario comunale, i dirigenti degli uffici tecnico e finanziario e i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio. Tra le tematiche trattate dal D'Agostino ha riferito le principali attività messe in campo nel periodo di gestione commissariale, a partire dall'approvazione degli strumenti finanziari alla gestione dei servizi turistici, alla programmazione di eventi e manifestazioni inerenti al periodo estivo, nonché alla predisposizione di misure di sicurezza del porto, che rappresenta un'importante risorsa del territorio, non solo dal punto di vista naturalistico-ambientale, ma anche per l'indotto economico che è in grado di generare, essendo punto di transito nelle rotte commerciali e turistiche dirette verso la Calabria e la Sicilia. Il commissario D'Agostino ha poi accompagnato il prefetto in una passeggiata alla scoperta delle tradizioni e delle peculiarità di Agropoli, che conserva intatto il suo centro storico e gran parte del circuito delle mura difensive del suo famoso castello angioino-aragonese, di origini bizantine normanne. La visita di ieri si inserisce nell'ambito delle iniziative avviate dal prefetto russo per costruire e mantenere un costante dialogo con gli amministratori locali, percorso interrotto a causa della pandemia da Covid-19 e recentemente ripreso con la cessazione dello stato di emergenza.